Si è parlato della costruzione in una delle aree di smesse della raffineria Eni di Gela di un impianto GNL per la liquefazione del mezzano durante l'incontro che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Presenti la sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano. Eni si è impegnata a realizzare lo studio di fattibilità del progetto entro sei mesi, cioè a dire marzo dell'anno prossimo. E' subito emersa la volontà di Eni di voler anticipare i tempi indicati nella lettera d'intenti per addivenire a quello che è uno scenario di mercato consolidabile con l'aiuto sicuramente delle istituzioni, soprattutto per quello che riguarda gli operatori pubblici, quindi trasporti pubblici o gli operatori della pesca nel processo di riconversione delle motorizzazioni su nuove motorizzazioni meno imbattanti alimentate ad esempio proprio a gas liquefatto. Si conta quindi dunque di arrivare a dicembre con un formato chiaro di quelle che possono essere le prospettive di mercato e le soluzioni tecniche su cui Eni già sta lavorando in maniera molto intensa, proprio per cercare di dare un'altra valvola di sfogo a quelle che sono le iniziative per rilanciare l'economia del territorio. Ma quali ricadute potrebbe avere in termini occupazionari la realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto? Il territorio ha una politica industriale vocata sui combustibili, oggi si sta puntando molto sui combustibili alternativi Eni affronta questa sfida con molta intensità, il territorio ha espresso di voler continuare una politica industriale vocata proprio alla sostenibilità e quindi rilanciamo quello che è il ruolo dell'ex raffineria in un contesto di piattaforma logistica di carburanti alternativi con affaccio sul Mediterraneo. Lei più volte ha sottolineato durante l'intervista Portualità, Mediterraneo, Porto, ma se lavori a Porto non cominciano, non è quasi un paradosso? È un paradosso tipico della lentezza delle istituzioni, in questo momento è quello che stiamo cercando di fare portando al Ministero i tavoli di confronto con la Regione e gli operatori del settore Il punto è quello di accelerare, velocizzare i processi che possono portare alla nascita di nuove attività Il paradosso è proprio che il Porto Piccolo, che è un porto di supporto alle attività del sistema logistico del territorio stenda per delle lungaggini burocratiche tipiche di istituzioni macchinose ed elefantiache